Nasce la nuova lista Termoli Libera, presentata con una conferenza stampa per enunciare nei dettagli il programma proposto. Un programma di impegni precisi e che mette al centro il cittadino. Una serie di iniziative che parte da otto tematiche analizzate nel dettaglio. Ogni tema è stato introdotto da un'analisi specifica del contesto. Urbanistica, mobilità e verde urbano, il primo punto chiave. A seguire, rete fognaria, pulizia urbana, disagio abitativo e servizi sociali, ma anche arte e cultura, sport, energia e fonti ecorinnovabili e infine il bilancio comunale. Hanno lavorato, così come ha spiegato in conferenza stampa a Derminio, sulle proposte specifiche sia politiche che amministrative. Questa lista, o meglio, questo programma e il simbolo che noi abbiamo dato alla nostra lista nasce da un coevo di forze, nel senso che una progettualità nata dall'esperienza fatta in questi cinque anni sul campo, come consigliere comunale, che si è poi trasformata in una discussione, in un dibattito aperto con tutte le persone che abbiamo coinvolto, che a loro volta hanno dato la loro disponibilità sia a candidarsi, sia semplicemente a sostenerci. Il nostro programma riguarda temi importanti, quali il trasporto pubblico urbano, la riqualificazione di Pozzo Dolce, dove deve esserci sì lo sbancamento, ma deve essere ripopolato, quindi dando all'ambiente un ruolo fondamentale. A questi progetti particolari e quindi concreti aggiungiamo una serie di azioni nel sociale, come ad esempio la nostra intenzione è quella di creare una casa comunità per le donne che sono state oggetto di violenza, così come deve esserlo nei confronti delle persone che non hanno possibilità economiche e quindi per esempio per la questione abitativa, degli alloggi abitativi, noi nel nostro programma abbiamo inserito la necessità di costruire in maniera convenzionata, in modo da facilitare l'acquisto sia ai giovani che anche alle famiglie di una casa, che è il primo bene essenziale. È quindi un programma che tocca varie questioni, che però mettono sempre al centro il cittadino. È stato svelato anche il simbolo della lista, con il castello svevo al centro e i colori della città. Il significato sì è molto autoesplicativo perché il castello è uno dei simboli principali di Termoli e la catena spezzata vuol dire che questa città è stata per troppo tempo incatenata in logiche politiche di potere che non le hanno permesso di sviluppare le sue potenzialità, anzi le hanno ridotte. Qui ad esempio il riferimento principale è al cattivo sviluppo urbanistico. E poi i colori, giallo-rosso sono i colori di Termoli. Quindi libera anche nella denominazione Termoli libera appunto perché c'è la possibilità e necessità di liberare le risorse, le competenze, le capacità e le volontà che a Termoli ci sono ma che fino ad oggi non hanno trovato spazio. Noi queste cose le vogliamo eliminare, le vogliamo superare e quindi ci proponiamo con un programma concreto e impegnativo che tocca direi moltissimi punti, aspetti della nostra città ma sempre con un taglio molto operativo e molto pratico.